frammenti del passato che ritornano al loro posto non sono pezzi di memoria ma parte delle meravigliose opere di arreto della chiesa di sant'agnello a capo napoli uno dei simboli di napoli perché tra le più antiche sorge infatti sull'acropoli della neapolis greca ora dopo curati restauri ritornano alcuni tesori che erano stati rubati ritrovati dal nucleo patrimonio artistico dei carabinieri restaurati dalla sopraintendenza a partire dal ponte del 25 aprile per il maggio dei monumenti una serie di visite su iniziativa dell'associazione terramare da sempre impegnata nella valorizzazione dei beni culturali restituisce al mondo la visione di queste opere d'arte di gran parte del sito restaurato così nella cappella lottorio si potrà ammirare la lapide di antonio capuano o nella cappella del crocifisso si rivedranno i paramenti in marmo o da anche ammirare il timpano frammentario di tabernacolo